lunedì primo gennaio si festeggia santa maria madre di dio oggi è la giornata mondiale della pace il proverbio del giorno è gennaio e in pie o vuote il granaio ed ora l'oroscopo della sibilla ariete ad impegnarvi in nuove cose siete sempre migliori salvo poi perdere quasi tutto l'entusiasmo non appena incontrate qualche piccola difficoltà esercitate la vostra forza di volontà senza rincorrere sillogismi infiniti occorre fare molta pratica toro siete già pronti a raccogliere quanto avete seminato in alcune cose dovrete forse aspettare più tempo se volete guadagnarci davvero inizio del nuovo anno pieno di allettanti promesse e aspettative tutto fila via secondo i vostri piani gemelli per non farvi sfuggire gli obiettivi principali del 2024 non dovete allentare la concentrazione va bene un brindisi ma senza esagerare se ultimamente non siete stati attenti al portafogli potreste scoprire di aver speso un po troppo cancro avete perso parecchio tempo complici anche saturno che intralcia la vostra strada e ora il partner potrebbe essere un po arrabbiato se rimediate ad una piccola defiance tirate fuori lo spumante o ancora meglio lo champagne leone svaghi e passatempi sono d'obbligo nei giorni di festa se non siete tra i fortunati vincitori della lotteria pazienza avete comunque di che gioire non sempre avete voglia di stare in mezzo alla confusione ma una volta tanto non potrà farvi male vergine la serata con gli amici è andata alla grande ma la mancanza di sonno potrebbe essere un problema se dovete organizzare voi il pranzo delegate alcuni compiti anche ai più piccoli in famiglia ci si può divertire pure facendo cose utili bilancia se in discoteca avete fatto un più tardi del previsto ora non potete pensare a nient'altro che a letto al divano o alla poltrona sogni d'oro un pigro primo gennaio con la luna in transito nel segno del cancro che non vi stimola più di tanto scorpione la vacanza organizzata da voi sarà un grande successo anche grazie alla luna intrigono al vostro segno amanti degli sci eccovi in pista per evitare contratture o strappi massaggiate i muscoli e non dimenticate un adeguato riscaldamento sagittario avete già fatto gli auguri a tutti i parenti più stretti e agli amici ora mancherebbero però quella persona che proprio non potete sopportare fate un piccolo sforzo e sorridete anche a chi proprio non se lo meriterebbe affatto magnanimità capricorno il salmone è stato un po' più caro del previsto ma non per questo dovete prendervela troppo se siete riusciti a fare felici gli altri siete felici anche voi l'opposizione luna venere vi consiglia di non dare nulla per scontato all'interno della cupia acquario vorreste liberarvi di alcune abitudini poco salutari prendete lo spunto da questa giornata per fare buoni propositi e soprattutto per seguirli se lo volete potete anche eliminare piccoli difettucci di carattere che qualcuno vi ha fatto anche notare pesci avete esagerato con il divertimento e adesso vi ritrovate con un brutto cerchio alla testa passerà certo ma se foste un po' più moderati se la luna in cancro vi incita a spassarvela pensate sempre alle conseguenze di ogni azione che fate